La politica con le novità della campagna elettorale per le elezioni lombarde. Sono ore decisive per capire cosa farà Roberto Formigoni, se continuerà a sostenere Albertini per la presidenza della regione oppure se si candiderà al Senato per il PDL. Sull'intesa Berlusconi-Maroni intanto dura presa di posizione del Movimento 5 Stelle. In giornata il Consiglio federale del Carroccio ratifica l'accordo PDL-Lega con Roberto Maroni candidato alla presidenza della regione Lombardia. Un'intesa criticata dal candidato presidente del centro-sinistra Umberto Ambrosoli dalla pantomima ha detto all'inciucio ma anche e soprattutto da Gabriele Albertini che stamattina ad una radio privata è stato durissimo. Berlusconi ha accettato un'umiliazione e ha dichiarato. Per questo accordo ha sacrificato molto della sua dignità e intanto attende di sapere cosa farà uno dei suoi principali sponsor Roberto Formigoni a Roma per discutere di un eventuale seggio senatoriale. C'è l'ufficio di presidenza nazionale e si discuterà approfonditamente e poi vi farò sapere. Dibattito tuttora in corso ma se Formigoni troverà l'intesa con il PDL quasi sicuramente non appoggerà più la corsa di Albertini alla regione. Il candidato presidente del Movimento 5 Stelle giudica così invece l'intesa PDL-Lega. Fa ridere la cosa perché se l'obiettivo di questo asse PDL-Lega è quello di raggiungere lo stesso obiettivo della legislatura precedente e quindi 62 consiglieri regionali indagati vabbè che si facciano avanti tanto i cittadini credo che ormai non si facciano più prendere per il naso. A livello programmatico a che punto siete il Movimento 5 Stelle? Beh noi il programma lo gestiamo da anni, abbiamo sempre dato voce soprattutto ai cittadini e quindi continueremo a gestirlo e il nostro programma è sempre work in progress. Dal fronte PD da segnalare la lettera del segretario Maurizio Martina, rinuncio al collegio Lombardia 2 alla Camera dice per vincere la sfida alle regionali.